Benvenuti a tutti da Punto Sto in Punto a questo nuovo video. Abbo sta regalando furni. Ebbene sì, ma prima di iniziare il video vorrei dirvi che ho aperto un canale Discord per tutti voi abbini, qualora voleste unirvici. Il link lo trovate qua sotto, in descrizione. Mi troverete online nella sua chat vocale, più o meno sempre, per questo periodo di clausura. Per chi non lo sapesse, Discord è un'app tipo Skype, ma con qualche funzione extra. Inoltre, volevo ricordarvi che sono tornati i crediti ed i rari in vendita al mio security shop, dato che me lo chiedete continuamente. Se siete interessati, potete iscrivermi su WhatsApp al 3487020677, come appare, insomma. O su Telegram, a Stinabbo, o su Skype, Simone Derdi1. O appunto, aggiungetemi come amico su Discord. Mi trovate nel mio server. Tutti questi nickname e tutto quanto sono anche in descrizione. Torniamo al video. Marzo 2020, coronavirus moment. Lo sappiamo tutti, tutti sono chiusi in casa, non solo in Italia, ma anche in altri stati europei. E non solo. Questo ha causato che una buona parte di persone, che di norma erano fuori, in palestra, a farsi i selfie, a fare i trekking, in palla a volo, giochi d'atta... Questo sono io. Si trovano tutte in casa da sole, con i familiari, chi da sole. E come si comporteranno questi utenti? Beh, ovviamente i vecchi utenti di Abbo Hotel sono tornati in massa sul gioco, tanto che abbiamo recentemente raggiunto i 700 online, come ci ha fatto notare scioccato in un suo post su Facebook. Cosa che non capitava da parecchio tempo. Io in primis ho in lista oltre 100 persone. Cioè, da quanto non capita. Comunque, Abbo, un po' perché ha notato questo massivo aumento di utenza, un po' spero anche per invogliare gli utenti a stare a casa, ha deciso di regalare degli oggetti. Come vi chiederete? Col classico metodo a cui siamo abituati da 4 anni a questa parte, con il calendario regali. Nacque con un calendario dell'avvento natalizio, poi piacque, a luglio fu ripreso, e da allora ogni sei mesi circa, appunto, guarda caso, nei momenti in cui Abbo peraltro registra più utenza, ossia le vacanze natalizie ed estive, l'hotel regala oggetti. Ovviamente questo regalare i furni, che è positivo per chi non shoppa, è in realtà un piccolo danno per i commercianti, dato che finisce con lo svalutare i furni, ma dettagli. Andiamo a vedere cosa ci ha regalato Abbo Hotel. Dunque, ecco qua. Questi sono i furni che ho trovato per il momento. Sono tutti look, 10 look attualmente, potrebbero anche essercene altri, solo che, nel momento in cui ho girato il video, i regali non appaiono da versione desktop. In pratica sono stato costretto a loggare 50 personaggi da App Smartphone tutta la notte, giusto per potervi portare dei contenuti interessanti per il video. Su, il like meno merito, vero? Premete allo stronzetti. Ora veniamo al dunque. Come potete fare per ottenere tanti premi? Come al solito, con i cloni, manco a dirlo, no? Per ogni mail potrete avere accesso ad un premio giornaliero. Ho provato, usare più account per la stessa mail non funzionerà. È stato probabilmente un errore il fatto che questo Natale fosse invece possibile. Quindi vi serviranno account con mail diverse per avere i premi. Cos'è un clone? Come posso fare a registrarli velocemente? Come posso tenere più account collegati in contemporanea? A queste e mille e mille domande sui cloni che potrebbero sorgervi in mente ho già risposto in questi due video sui cloni. Trovate adesso comparire la finestrella in alto a destra per darci un'occhiata? Li troverete comunque anche qua sotto in descrizione del video. Fidatevi di me, vedeteveli, perché ogni anno mi dimostrate che usate metodi stupidi ed inconcludenti. Ascoltate uno che gioca da 13 anni ad abbo. So quello che dico. Comunque, di norma, si possono aprire legali sino a quelli di due giorni prima, ossia il consiglio è quello di loggare gli account ogni tre giorni per fare meno fatica. Essendo questo però un calendario breve, infatti durerà circa due settimane, la mia è una mera supposizione che non posso confermarvi. Troveremo solo luke in questo calendario capodierno? La risposta è ni. Nel senso, come furno troverete sempre soltanto luke, ma potreste trovare anche dackets, hc e probabilmente anche crediti e builders club. Anche se a me però non sono capitati quei cloni, questi due. Magari è solo sfortuna, chissà. Per aggiornarvi su quali siano i premi in tempo reale vi lascio il link alla stanza che vi ho mostrato in modo che possiate andare direttamente a controllarla se volete. Basta che prendete la descrizione e copiate. Che altro dirvi che sto lavorando ad un interessante progetto, un documento che sarà una guida per tutti i traguardi di abbo, che conterrà i link ai miei video sull'argomento, insomma, un documento unico utilissimo, anziché un marasma generale. Novità su abbo? Adara è incinta, Rigoletto era in ruolo per la sostituzione momentanea e la nuova abbo hotel manager è antigone. Ha pure mandato un jingle per la festa di abbo in abbo, che peraltro ieri ha avuto un'utenza record di 130 Martin Garrix, utenti in room. Record perché è la prima volta, credo, che una qualsiasi room su abbo venga allargata ad oltre 100 persone. Mai visto, manco con il teatro con ospiti importanti, come, vabbè, il Tokyo Hotel o anche di recente Sbuji. Vabbè. Abbo in abbo, fortunello. Infine, i club sono tornati, ne sono aperti un sacco, Ordine Massonico, Takeshi, Corleone che fa i 75 fissi, ma soprattutto sono tornate quelle del mio cuore, Abbesco, Cuneo, Iacuzza e fra poco anche di Mr. Bellic riaprirà la mitica Sant'Antonio. Gli attacchi sono iniziati, aspetto una distruzione in grande stile e so che Riccardo riaprirà con essa, ne sono piuttosto sicuro. Bellic non delude mai, soprattutto se in braccio un'abbina. Prima di lasciarvi vi pongo un quesito, rispondete nei commenti e perché estrarrò un fortunato vincitore, fra chi ha risposto bene ovviamente, che si aggiudicherà un premio. Quindi la domanda è questa. Come si chiama questo furno? Uno dei look premio di questi giorni? Opzione A, occhio metallico. Opzione B, occhio vegeta. Opzione C, occhio cibernetico. Rispondete con la lettera o col nome corretto del furno, più il vostro nickname. Ah boh, altrimenti come cazzo vi fago? Vabbè. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e condividilo sui social. Qua a sinistra trovate il mio ultimo video, correte a vederlo se ve lo siete perso. In alto a destra trovate il pulsante di iscrizione a questo canale. Infine, ecco qua i social sui quali potete seguirmi. Trovate il loro link qua sotto in descrizione. Grazie della visione.